Ciao a tutti amici di Cucina con D, benvenuti in una nuova guida di sopravvivenza nipponica. Partiamo dal fatto che l'estate in Giappone fa cagarci, è proprio la merda. Si mordi caldo, si suda, sono sfato, sono qua veramente uno schifo d'uomo. Ma non che quando non sono sudato sia meglio, ma lasciamo stare. Allora, nonostante l'estate qui in Giappone faccia schifo, a me non so anche di più riprendere, c'è una cosa bella, che si chiama Matsuri, ci sono dei due tipi. Il primo, intanto sono anche contro luce, c'è proprio lo schifo d'uomo che sono. Già, mi metto all'ombra. Allora, il primo Matsuri, il primo tipo di Matsuri, è quello con le bancarelle, i cibi, i bici, i giochini, i pesciolini da tirare su con la retina di carta. Molto carini, molto carini. Il secondo tipo di Matsuri, invece, è quello che vi metterò ora. Giusto per capire di cosa vi stia parlando. Ed è un Matsuri musicale. Godetevelo e noi ci vediamo a un prossimo video. Mata Kondo, ciao! Mata Kondo, ciao! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E tu dà un sacco di miei di cui non miagra il occhi, Grazie a tutti Grazie a tutti